Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la maglia pre-match dell'Inghilterra per i mondiali in Qatar che si sono appena disputati, nella versione FAN. Caratterizzato da un look audace, la maglia pre-partita Nike Inghilterra 2022 World Cup combina diverse tonalità di blu e blu navi attraverso un motivo grafico all over distorto. Sono presenti anche lampi di rosso. Lo swoosh di Nike sul petto, a destra, è azzurro, mentre lo stemma della federazione calcistica inglese si trova sul lato opposto, in una versione ricolorata rosso-azzurro. La maglia è ovviamente realizzata da Nike ed è stata indossata per il riscaldamento prima delle partite della Coppa del Mondo 2022. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Un ulteriore passo di Nike e del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. Questa maglia è molto bella. Nella mia personalissima classifica prende 4 stelle. Mi piacciono molto questo disegno all over con queste toni di blu e questi accenti di rosso. Il costo lo vedete qui sopra che è veramente bassissimo. Peraltro vi ricordo che in descrizione trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.